Uno nessuno centomila di Luigi Pirandello con Enrico Loverso ha approdato ieri sera barletta nel magico piazzale delle armi. Un riadattamento del teatro in forma di monologo che supera la funzione dell'intrattenimento e diventa occasione, pretesto, spunto per la conoscenza, come fosse una seduta psicoterapeutica. In realtà questo testo, questo spettacolo è un atto di altruismo, di generosità e almeno l'abbiamo visto come un uomo che ha trovato la serenità, ha trovato la solidità, paradossalmente togliendosi tutte le sicurezze che aveva e decide di spiegare agli altri quale sia stato il meccanismo, il percorso attraverso cui lui abbia poi raggiunto questa serenità. E quindi questo è lo spettacolo e nel raccontare i suoi passi, i momenti di questo suo percorso e nel condividerli con gli altri, già la parola condivisione ci riporta all'uso dei social, è una cosa molto comune oggi, e lui nel condividere questa cosa con gli altri, lui gli racconta la sua storia, li abbraccia, cerca di indicare un momento bello e mentre lo fa in tanti si riconoscono nei suoi pensieri, nelle sue riflessioni e soprattutto nelle sue domande. Lo spettacolo prodotto dalla Ergo Sum per la regia di Alessandra Pizzi è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Barletta e fa parte del progetto Si va in scena per permettere alle compagnie di ripartire. Noi ci sentivamo in dovere, quasi morale, di ricambiare questo sforzo fatto dall'amministrazione a sostegno della ripartenza del teatro offrendo ai cittadini di Barletta, ai turisti che in questi giorni sono a Barletta, la possibilità unica, rara, eccezionale riservata solo a 150 persone perché il distanziamento nonostante la grandezza del luogo non permette altro ma di partecipare gratuitamente allo spettacolo. Un messaggio di speranza per i cittadini, per gli imprenditori, per il teatro a portare avanti i propri progetti nonostante tutte le difficoltà del momento. Il teatro sicuramente soffre come tanti altri settori non voglio dire perché ognuno dice che il proprio settore è quello che più è danneggiato il teatro come tanti altri settori soffre e la battuta d'arresto siamo stati i primi a uscire di scena gli ultimi a rientrare, ogni sera siamo col fiato sul collo perché ovviamente la curva dei contagi non ci lascia tranquilli, facciamo un lavoro in cui comunque siamo esposti ma comunque il teatro resta se ben gestito, se ben fruito, è un luogo tranquillo e comunque è un luogo che serve, serve in questo momento laddove appunto l'epidemia lo permetterà serve comunque ritrovare bellezza in un momento in cui comunque con il terrore facciamo i conti tutti i giorni.